Ciao a tutti i partecipanti di questa nuova edizione del Fantacalcio di Solo Bari. Come ogni anno, io almeno una volta all'anno provo l'emozione di fare la velina, anche quest'anno è arrivato il momento dei sorteggi. Quindi procediamo subito, i regolamenti li troverete sul sito, abbiamo due gironi da 18, girone A e girone B. Quindi procederemo con l'estrazione 1-1, quindi 1 girone A, girone B, girone A, girone B. Procediamo subito. Qui abbiamo il contenitore. Ciao a tutti. Il primo è Noiano, girone A. Mettiamo qui, quest'anno siamo anche molto più professionali, visto che abbiamo fatto tutto al computer. Primo del girone B è Joao Paolo. Già si può chiudere qui il Fantacalcio, secondo me, comunque. Sì. Beh, ecco qui. Girone B. Jack Daniels. Girone A. Il Puma. Ormai ho imparato a memoria tutti i nick. Ci sono dei veterani di questo Fantacalcio. Gerry. Uno dice veterano e spunta Gerry. Capì? Tutto studiato. Il sognatore è nuovo in questo Fantacalcio. Girone B. Pierigno. Girone A. Max 1983. Niente poco di meno che il campione in carica. Scusate, ma questi biglietti sono troppo piccoli. Hanno i girone B. Tu li hai fatti i biglietti. Eh sì, lo so. L'anno prossimo sarà ancora più professionale. Girone A. Colino 18. Poi io in genere sono sempre curiosa di sapere il significato dei nick. Un giorno lo scoprirò. Onyx 69. Anche questo vuoi scoprire? Sì, tutti li voglio scoprire. Il Bolshevico. Girone A. Girone B. Rosencrantz. Niente di meno. Che vuol dire niente di meno? Niente di meno. È un conosciuto questo nick, no? È bugia. È un verde. Eh, appunto, lo so. Paele. Girone A. Tre sì. Sei lenta. Eh, lo so che sono lenta. Italo spagnolo. Girone B. Paco 76. Girone A. Luca. Girone B. Magari riuscito. Ciccio Massimo. Girone A. Pla. No, Uplat. Girone B. Ma ci troviamo con noi. Ma sì. Ma sì. Girone B. Tu controlla. Preoccupa. Tuco. Girone A. Galattico. Girone B. Aria di derby nel girone B. Confusione. Girone A. Gianni. Girone B. Io non ci sto. No. Però, girone A. Mentre facevo i bigliettini ti ho tolto perché sapevo che saresti stato troppo forte, capito? Ho capito. Salipcio. Girone B. Any given Sunday. Girone A. Nuovo anche lui. Ogni maledetta, Domenico. No, ogni maledetta. Buono lo so, forse ho detto un'accazzata. Non vuoi, girone B. Forse ho detto un'accazzata. Vabbè, andiamo avanti. Non sarebbe la prima volta. Infiltrato Barese, girone A. Scusa, non giriamo. Wang, girone B. Girone facile facile mi hai messo. Come al solito, si vede che l'amore è proprio... Kevin il Condor, girone A. Mr. Brown, girone B. Non è la mia pronuncia in inglese. Ma, meno male che almeno mi hai messo Mr. Brown. Sei punti facile. Errino, girone A. Andiamo con gli ultimi tre. Barese, girone B. Attenzione, attenzione, chi manca? Caffè Borghetti, girone A. E' l'ultimo che è un numero. 70-123, capo di Bari. Eh, chiamalo numero. E' il capo di Bari. Questo non è un numero, questo è il campione. Cioè, i campioni stanno su e giù. Straordinario. Beh. Beh, ragazzi, vi auguro un grosso in bocca al lupo per questo fantacalcio. Io ovviamente... Tanto chi vince si sa già. Io spettifo sempre per le donne, eh. Ma per te chiusa parentesi, quindi... Buon fantacalcio a tutti.